e beh ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video come avete visto dalla intro nei episodi che avevo pre registrato di minecraft che ormai ho buttato via perché voglio incominciare su questo computer qua ho preso dei diamanti per la precisione sono cinque che vi faccio anche vedere questi qua con cui potremmo farci o il piccone di diamanti e anche la spada tre quattro sì oppure tenerci per fare l'enchant in table però visto che nei episodi che ho che ho pre registrato l'ho buttato via e non ho fatto vedere niente mi so fatto adesso non mi ricordo più i tasti la notaria di ferna mi ricordo se l'ho fatta vedere comunque ho fatto come avevo detto la farm di polli se non funziona mai per il cazzo però io continuo a guardare la registrazione non ho più guarda minecraft vero allora vediamo sono la piume che merda allora vabbè usciamo e questa è fatta qua sotto c'era la miniera questa è la casa la e il corso delle barche che potremmo anche migliorare la stato del piccone di qua c'è un'altra cosa e di qua c'è il mob spawner che adesso non dovrebbe laggare in teoria boh vabbè però il mob spawner che non sta con donna per niente solo che però non posso voler vedere perché ormai sopra ci saranno i mob ho dimenticato le trapdoor ecco perché non scendono adesso vi faccio vedere corriamo a casa perché oggi in questa forse volevo fare la casa nuova però già questa qua mi basta quindi per oggi mettiamo al posto il mob spawner le trapdoor si fanno con il legno che io adesso ah no no porcaiva e invece sì che ce l'ho allora buttiamo via noi buttiamo via ehm queste cose che non siamo nel cazzo porcaiva si fanno così ma perché devo fare cinquanta due della sei si dovrebbe essere sei aspetta c'è il trucchetto infatti ok ci mettiamo le trapdoor nell'inventaggio al posto della barchetta e poi dai e andiamo al allora ragazzi ho scritto le coordinate e quindi adesso andiamo vi porto a vedere cosa ho trovato perché io li avevo pensato di farci qualcosa ma di preciso ancora non lo so però se vuoi sapere qualcosa scrivetelo nei commenti dove ti faccio vedere anche da visto che tu non l'hai mai visto tanto panini ne ho in abbondanza ma hai usato tutto il grano che c'è ma che c'ho non c'ho ancora cinque sei stack allora se hai sei stack puoi fare tre stack di panini non me ne hai fatto un cazzo per quello che posso fare ah ma due stack io al parco facciamo cagare panini ne abbiamo sempre allora dove minchia era poteva essere la ma se sei segnato le coordinate io al parco no ma no no ho fatto una malagare allora dovrebbe essere di qua te lo dico sai ieri si no potrebbe non essere di qua porca eva ha fatto un nuovo la gallina era di oro o era di plastica aia no di plastica non ce l'ho mai avuta non ce l'ho mai avuta dov'è che l'ho avuta mi spiega ma dai dai ok l'ho detto eccolo qua e questo come vedete è il bioma la neve ma che neve le strega colline cioè buonanotte ecco vaffanculo potrebbero esserci in che versione sei 1.10 punto cazzo ma vaffanbari perchè se arriviamo nell'ultima versione c'erano anche di orsi ma infatti in 1.10 ci sono i lama giu ma l'ultima versione è 1.11 no è uscito lo snapshot anche da 1.11 però ora rompiamolo ok cosa che non è il vetro compatibile si compatibile buonanotte compatto in plastica bravo io lì ci volevo fare una casetta non una casetta ma proprio una casetta la coppia se non ce l'ho e che bello quasi pure la il fiume ma io io proverai a salirci eh intanto a me qua non dovrebbe lagare la registrazione infatti eh com'è? ah che cacchio è? ok si era bugato allora io direi c'ho la crafting table c'ho il legno non c'ho un cazzo quindi vaffanculo se no fai un ponte che ti porti fino a casa con le rotaglie e già pillar jumping e che che sembra questi qua allora andiamo su 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 e poi vediamo cosa fare perché quattro cazzo la faccio qua sopra la casa avete presente la casa di stepney eccola no che poi dopo sei cazzo ritorniamo lo shift per esempio la casa di stepney che è in alto io me la faccio sopra un igloo che cazzo non so cos'è sto coso da che vuole alto semmai dopo la congivo con l'altra casa se ce la fai ma quattro minche siamo altri cento quattordici ma se la rompi ma neanche stepney l'ha fatto così alto allora shiftiamo qua e direi che con tutta la cosa che abbiamo potremo anche farci la casetta nuova ma anche se proprio scanno nel bianco ora si metriva con un cento si ma qua dentro mmm fa una cosa scendiamo e cerchiamo ma mi hai l'acqua perchè sono una coglione non potevi piacere l'acqua e vabbè sono ma perchè apro l'orto vaffanculo ti ricordi dove erano ma c'era che me lo ricordo non potevi prendere un po' di cobblestone eh vabbè non ce l'ho passato fa culo ritorniamo la che sennò se però tutto mi arrabbia perchè ci ho messo tempo a fare vediamo la vediamo se sparandolo ci troppa qualcosa magari vabbè ci vediamo la perchè ormai ci vorrà un po' di strada ok ragazzi ci siamo arrivati qui riprendiamo tutta la roba giovanni basta rompere le palle ma vattene se devi rompere tutte le cose ma cade eh cade un cazzo non cade niente sei tu che sei stupido dai non fottemi le cose su questo qualcosa eh infatti le uova le uova non me ne fiega altamente però la spadina allora ribardiamoci la spada al secondo posto l'arco al terzo posto l'unica frecce che c'è l'unica frecce che c'è l'unica frecce che c'è l'unica frecce che merda va vabbè ma sapete quando quando me ne fottamè non serve a così volevo soltanto far vedere sto bioma che qua magari potrebbero magari sponare gli orsi che ne sapete allora vediamo muoverci un po' di qua cos'è che c'è fatti una palla prendiamo una neve se troviamo la zucca ci facciamo snow pin snow pin che cazzo dici snow pin snow pin lo chiamiamo che c'è che nome è snow pin ma così infatti si ma dove ne stava cadendo già mi ci voglio credere eh no dai allora adesso in questo episodio mi sa proprio che faremo una casa però io non so neanche dove farla cosa è il problema sono un macchone perché anche sì certo anche quella anche questa canna non mi sembra male ma chi haciuto aperto la porta? io struncio anche questa canna non mi sembra male perché non mi sembra male però forse girando di là potremo aspettate andiamo in caverna prendiamo l'ossidiana ci facciamo portare il nether di portare il nether no no ci facciamo la farm d'oro per farsi le mene d'oro e poi un giorno ci serve il piccone di diamanti è vero lui c'ha il piccone di diamanti ah ragazzi non so se la metti la parte che abbiamo ragazzi io il piccone me lo faccio l'abbiamo trovato in miniera l'ultimo posto l'ultimo posto guarda ne hai anche di là allora ci facciamo un bel piccone ne vale la pena si ne sa di no eh ma per prenderlo si dà prendiamo l'enchanting table prendiamo l'enchanting table ci serve uno dei libri si ma ci serve non ti preoccupi ci sono le foglie di casa qua proprio vai andiamo a prenderlo si dà ma mi ricordo dove è eh vabbè ci vediamo là quando sono arrivato eccoci qua ho trovato la strada qui adesso prendiamo il piccone di diamanti ne spacchiamo praticamente il più città possibile perché adesso vi faccio usare il portale adesso vi faccio usare il portale è vero no comunque è meglio essere previdente preparati perché ti hai una barchetta scusa l'ho fatta io cosa c'è il portale del nether anche la devono farci la casetta ma non adesso adesso ci vediamo lo seguiamo per fare l'enchanting table ovviamente la metteremo nella casa nuova e forse in questo episodio non lo faremo ma lo faremo nel prossimo episodio ma l'enchanting table la puoi spostare? si ma comunque non l'ho piaciuto tanto devo fare comunque le librerie porca Eva ci sentiamo da poco ci sentiamo da poco quando ho finito di prendere tutto lo siena che voglio ok ho finito tutto e sono riuscita a racimulare 42 pezzi di osidiana che non è niente male quanto si è spagato il piccone? ehm ehm perché faccio esempio yesc merda eh? ah non mi ricordo come si era f3 più h f3 più h dai ok e di show ai schicirca 40 vlog 40 non troppo vicino però devo buttare via l'andese in te non me ne faccio un cazzo non me ne faccio un cazzo allora è vero che potrei togliere anche questa qui quella quella e quella ma già questi mi vanno bene non lo so dai andiamo si è continuato a arrivare continua porca puttana stai zitta si vengo va bene adesso spengo ma che verità stanno registrando non lo so non lo so non lo so è capito in estiva eh? ok è capito in noi spieghi adesso veniamo adesso concludiamo e no ecco ma si vengono e vengono bravi beh ragazzi adesso saliamo se mi ricordo dove sale eh da dove stanno venuti? da qui mi ricordo ok allora vabbè già 42 pezzi mi sembra vabbè 42 pezzi ci sono già tanti scacchio cosa? devo andare a prendere le mucche perchè per fare i libri mi sembra la pelle ahhh se tu qua c'avevi il la mucche mettevi un attimo la caratteristica su una video eh ma non posso due vacche eh ma vaffanculo lo farei tu nella tua serie è vero che tu non la fai più porca Eva se forse la faccio tu non la fai più forse si con cosa? con il tuo computer? col mio no si faccio col mio venga però dopo l'ha renderito sul tuo eh ovvio calmini intanto che io registro un altro si renderito sul tuo allora se non erro da fare così quattro così diamante in mezzo così il libro e qua ci vuole il libro quindi prima andando a evitare di perdere sti diamanti ce li mettiamo no pure me li metto di sopra insieme alla alla al grano al grano perchè ma che grano non ho alimenti non ho alimenti ah qui uno e due e ossidiana merda le vacchette le vacchette due cacchi le trovo adesso che siamo sul sul cofetto in isola mo? che si fa? allora raccolgo sto grano che mi serve e dagli ma com'è che ho perso è testato allora allora ah non vale si si sente per un morire tac tac che spacchi il grano allora ripetiamo tutto ripetiamo che sennò non c'è più e quasi 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 adesso faccio anche faccio anche le panne dei libri che riesco a fare perchè quasi quasi un bel un bel po' di libri non riesco a fare quelle di zucchero che ho adesso perchè non pianto mai porca Eva ne hai mancati anche un bel po' tatata tatata a voi scrivetemi nei scrivetemi nei commenti se magari lag ancora così magari cerco di mettere a posto qualcosa ah ecco in questi giorni mi dovrà arrivare anche la la scheda ram da aggiungere al pc 15 quindi invece che essere da 8 come ho detto nel video che c'è in descrizione arriverà a 16 giga e quindi non è niente male poi vi porterò anche una serie su come si chiama Bim & G Drive che lo coloco un po' su steam prima da prima facciamo un episodio dopo se gli piacciono a loro facciamo un allora lei pagli se non andava su una parkour e infatti ok le possiamo già fare mille ok e manca proprio una ok stiamo a due stack di carta e ci serve un pezzo di di portiamo allora qua chiudiamo portiamole sopra perchè c'è qualcosa che sono rare di più vabbè potremmo anche farcela ancora però carta la mettiamo qui e la mettiamo qui dobbiamo ancora trovare queste mertine di mucche i polli stanno morendo ma tanto non mi danno un cazzo di niente allora mettiamo qui via tutto e adesso facciamo cambio 3 2 1 1 2 2 3 3 5 5 6 9 9 10 10